Dopo mesi di rinvii, errori di notifica e false partenze, oggi il vero fischio d'inizio della partita tra accusa e difesa nel processo ciclone sulle presunte tangenti negli appalti pubblici al comune di Montesilvano che nel novembre del 2006 portò all'arresto dell'ex sindaco Enzo Cantagallo di assessori, dirigenti comunali e imprenditori. E il gruppo di Pescara, Carla De Matteis, ha decretato un sostanziale pareggio nella sfida su un passaggio cruciale del processo quello sulle intercettazioni. Da un lato i difensori dei 36 imputati che hanno proposto di ampliare il numero di intercettazioni nel fascicolo processuale, dall'altro il PM Gennaro Varone che si è opposto ritenendo sufficienti quelle da lui indicate su cui si è basato finora l'impianto processuale. Ci sono stati momenti di tensione nell'udienza a porte chiuse, da un lato l'accusa che ha letto le tesi degli avvocati come un espediente dilatorio teso ad avvicinare i termini di prescrizione per alcuni reati, dall'altro la difesa che ha argomentato la necessità di valutare un numero più ampio di intercettazioni dalle quali emergerebbero anche elementi a discarico degli indagati. La dottoressa De Matteis, dopo una sospensione di circa un'ora, alla fine ha deciso. È proprio il PM Varone all'uscita dell'aula a spiegare in quale direzione. Il GIP ha ordinato la trascrizione delle intercettazioni accogliendo tutte le richieste del Pubblico Ministero e respingendo parzialmente quelle dei difensori e ha aggiornato l'udienza il 12 gennaio dell'anno prossimo. Odienza dunque aggiornata al 12 gennaio. Il GIP ha deciso di accogliere completamente la richiesta del PM e solo parzialmente le istanze della difesa. Il perito, nominato già quattro mesi fa, avrà ora 60 giorni di tempo per svolgere la sua attività. Non si esclude che possa essere affiancato durante il lavoro da un altro perito, vista la mole comunque imponente delle intercettazioni da trascrivere, ma da oggi si può dire che il processo ciclone è davvero entrato nel vivo.